Buongiorno dalla Beat 2019 di Milano, io sono Rossana, sono qui con il mio amico Bob come sempre e ovviamente tappa obbligata allo stand d'Israele dove incontro la mia amica Avital. Avital, un grandissimo successo già al primo giorno di fiera, so che è andata a Ruba tutta... Sì, abbiamo visto ieri tantissimi appassionati che vogliono andare in Israele, per noi grande successo dopo la bellissima campagna che abbiamo fatto, ultimamente, tanti appassionati, tante domande, come andare, cosa fare, abbiamo veramente tanto da offrire ai italiani, abbiamo finito tutto il materiale già ieri e abbiamo ancora. Comunque Israele è perfetta, sempre più vicina, questa estate 94 voli diretti, non ci sono scuse, andare, 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 Israele vi aspetta. Assolutamente, in fiera la novità di quest'anno se vogliamo è il punto sulla cucina, anche nel numero di dove si parla di Gerusalemme e della sua cucina e ci sono dei bellissimi segnalibri allo stand con le ricette. Le ricette israeliane, direi che è sempre calcolare 5 kg di più quando si viaggia in Israele perché il cibo è buonissimo ovunque. Benissimo, a Vitale, io ti ringrazio tantissimo, come sempre il tuo entusiasmo ci abbraccia e ci invita ad andare a visitare la bellissima Israele. Ci vediamo in Israele! Ciao! Shalom! Ciao!